Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano. Introduzione di Mario Rigoni Stern. Tra i libri sulla Prima Guerra Mondiale, Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu è per me il più bello. Tra quanti ne ho letti, studiati, consultati, di autori italiani, austriaci, tedeschi, francesi, inglesi, russi, americani, nessuno, proprio nessuno, mi ha coinvolto e reso partecipe con quanto l'autore racconta. Forse perché sono nato sull'altipiano, in una casa ricostruita sulle macerie e che Lussu aveva visto nel 1917. Forse perché sui monti Zebio, Fiore e Castelgomberto andavo a caccia di galli e di coturnici, e dalla sua ho visto spuntare tante albe e schiarire la pianura e il mare lontani. Forse perché in Val di Noss vado ancora a camminare con il mio cane. Era il 1953, quando lessi questo libro per la prima volta. Me l'aveva portato un cugino da Padova. La copertina era di messa e la carta piuttosto grigia. Era stato stampato a Roma, da Giulio Inaudi, quando qui eravamo occupati dai tedeschi. Scrissi Mi buttai a leggerlo come si butta l'orso sul miele, trascurando persino i doveri dell'ospitalità. La mia sorpresa fu grande, forse la più grande che ebbi come lettore. Quelle pagine parlavano di fatti accaduti tra le mie montagne durante la Grande Guerra, e in particolare di un monte che conosco come l'orto di casa. Il cugino che mi aveva portato il libro mi fece poi conoscere i Trentin, la signora Beppa e i figli di Silvio, e fu attraverso loro che arrivai a Emilio Lusso. Nella mia vita ho incontrato qualche grande capitano. Sono uomini molto rari, di grande ascendente, rigorosi in primo luogo, con se stessi, che comandano senza urlare, che sanno affrontare con la forza della ragione le situazioni più drammatiche e difficili, che non amano le gesta eroiche, che conoscono il valore di ogni esistenza e che vivono la storia. Tra i veri capitani, Emilio Lusso è stato il più grande. Re pastore, nobile cacciatore, domatore di cavalli, uomo politico in prima linea nei momenti più importanti della storia d'Italia di questo secolo, narratore semplice come un classico antico, ma per me capitano. E basta. Così, quando ancora oggi vado a camminare per i luoghi che ci racconta, è come fosse con me, a ripetermi cose che non ha scritto, a spiegarmi sul terreno le azioni della brigata Sassari in quell'anno sull'altipiano. Aveva scritto questo libro non come un diario, non come un saggio storico, non come prova letteraria. Ha solo segnato i fatti, ha solo segnato i fatti con parole, come raccontassi ai suoi parenti, agli zii o suoi maestri di vita rusticana, uomini valentes. Questa è la mia tribù, mi diceva, dove l'onore e la parola hanno sommo valore. Pagine così non potevano nascere che da uno stato d'animo particolare. Questo l'avevo subito capito, e dopo, quando me ne parlò, e lessi le altre cose che aveva scritto, tutto mi apparve più chiaro. Scriverlo per lui era diventata una necessità. Non perché Salvemini l'aveva stimolato, non perché si sentiva scrittore, e tantomeno letterato, ma perché era lontano dalla sua Sardegna, perché in quel momento della sua vita non era in azione con i suoi compagni fuoriusciti in Francia, ma si trovava costretto a una lunga convalescenza in Svizzera, dove era stato operato ai polmoni per una malattia contratta in carcere. È lì, tra le montagne dei Grigioni, che gli ricordavano le montagne dell'Altipiano, nella forzata inattività che con viva memoria gli sgorga dalla penna un anno sull'Altipiano. Ovviamente è un libro così, scritto da un fuoriuscito evaso dal confino, e in quel tempo, era il 1936, non poteva essere pubblicato in Italia. Uscì a Parigi, nel 1938, presso le edizioni italiane di cultura. Furono in pochi a leggerlo. Giulia Inaudi lo fece conoscere dopo la liberazione di Roma, quando la sua casa editrice riprese vita. Ma anche allora non furono in molti a leggerlo. In quel 1945, altri grandi eventi correvano per l'Italia, e Lussu stava partecipando attivamente alla Resistenza. Venne ristampato a Torino nel 1960, e finalmente, critici, storici e lettori se ne accorsero. Ora, i giovani di oggi, per i quali la Grande Guerra è più lontana della Luna, e in questo libro trovano quello che i testi scolastici non dicono, quello che i professori non insegnano, quello che la televisione non propone, e nemmeno il cinema. Uomini contro, non è un anno sull'altipiano. Un giorno, a Roma, dopo aver visto il film con lui e Rosi, mentre lo accompagnavo verso Piazza Adriana, mi disse, come seguendo un suo pensiero, «Tu lo sai, in guerra qualche volta abbiamo anche cantato». Ed è cantando quel mazzolin di fiori, mentre sale per la prima volta all'altipiano, in quel giugno del 1916, che la brigata Sassari incontra i profughi che hanno abbandonato le loro case, alla furia della guerra. La nostra colonna cessò i canti, e si fece silenziosa. Il resto è scritto nelle pagine che seguono, e che resteranno per sempre nella storia della nostra Italia. Mario Rigoni Stern, febbraio 2000 Breve nota storica Un anno sull'altipiano racconta gli avvenimenti nei quali, tra il giugno del 1916 e il luglio del 1917, venne coinvolta la brigata Sassari, 151esimo e 152esimo reggimento di fanteria, quasi tutta composta da soldati sardi. L'Ussu, all'inizio di queste vicende, era tenente aiutante maggiore in seconda del Terzo Battaglione del 151esimo. A seguito della grande offensiva austro-ungarica, nota come spedizione punitiva, iniziata all'alba del 15 maggio e protrattasi per un mese, la Sassari venne rapidamente spostata sull'altipiano dei Sette Comuni, e il 5 giugno, sul Monte Fjord, si scontrò con i determinati bosno-erzegovesi, forza d'assalto della Sesta Divisione AU, comandata dal principe di Schomburg-Ortenstein. E fu epica battaglia tra i bosniaci, che dall'alto del monte avevano intravisto la Laguna e Venezia, e i sardi della Sassari, e gli alpini dei battaglioni Morbegno, Valmaira, Argentera e Monviso. Gli assalti e i contrassalti durarono tre giorni. Dopo, venne una relativa tregua, e la notte tra il 24 e il 25 giugno, gli austriaci si ritirarono su una linea di resistenza precedentemente scelta. Ma per loro, fu anche il fallimento dell'offensiva che avrebbe dovuto decidere le sorti dell'Italia. Il 3 giugno, marciando verso la morte, i fanti della Sassari, sul fondo tetro della Val Frenzela, avevano incontrato le donne di Valstagna, che, porgendo i bambini al loro passaggio, avevano gridato «Salvate le nostre creature!». Immoiche Semus Nos aveva risposto una voce dalle file «Ormai ci siamo noi!». I battaglioni alpini si erano diretti verso l'Urtigara e la Sassari si ritrovò in prima linea sulle pendici del Monte Zebio. Ora erano loro ad attaccare, ma inutilmente. Le metragliatrici dentro caverne scavate nella roccia e molteplici grovigli di reticolati fermavano ogni slancio. Per la fine di ottobre venne preparata un'offensiva italiana con lo scopo di riprendere almeno le posizioni conquistate nel 1915. Ma nell'inverno una improvvisa e abbondante nevicata seppellì uomini e trincee. La primavera che seguì con le calde giornate di maggio e lo scioglimento della neve causò non pochi problemi sanitari e pericoli di epidemie. Il disgelo discoprì le scorie della guerra e i cadaveri di tanti soldati insepolti. Si lacerarono anche i sacchetti di terra posti a protezione delle trincee così come crollarono i ripari costruiti durante l'inverno con terra, sassi e neve. Il 10 giugno 1917 iniziò l'offensiva preparata dai comandi superiori. Fu quella battaglia che va sotto il nome di Ortigara a coinvolgere due corpi d'armata su un fronte di 14 chilometri. La Sassari ebbe il compito di attaccare i capisaldi munitissimi di difese e mitragliatrici del Monte Zebio. I combattimenti furono asprissimi. I sardi sullo Zebio e gli alpini sull'Ortigara riuscirono persino a conquistare le trincee avversarie difese da più ordini di reticolati. Poi calò il silenzio. Un brivido percorre le membra di chi, oggi, cammina su quelle pietre frante. Mario Rigoni Stern Prefazione Ho scritto un anno sull'altipiano fra il 1936 e il 37 in un sanatorio di Clavadel sopra Davos. Mi ero ritirato là in seguito all'aggravarsi della malattia polmonare contratta in carcere, non potuta curare al confino di Lipari e dopo l'evasione trascurata in Francia. Deciso a guarire, avevo subito un'operazione chirurgica piuttosto pesante e la cura mi imponeva un lungo periodo di immobilità. Ma anche così non avrei mai scritto il libro senza le insistenze di Gaetano Salvemini. Fin dal 1921, in seguito alle rievocazioni che assieme facevamo della guerra, egli mi aveva chiesto di scrivere un libro. Il libro, diceva nelle sue lettere. Nell'esilio, il libro era diventato una specie di cambiale che io dovevo pagargli. Ad un certo momento, seguendo un filo che avevo nel pensiero da quando avevo letto Del principe di Niccolò Machiavelli di Federico Chabot, avevo avuto l'audacia di presumere di scrivere sul principe. Il giorno che ne parlai a Salvemini, la nostra amicizia rischiò seriamente di cadere in crisi. Era il libro che egli mi reclamava, non già a divagazioni sul segretario fiorentino. In questo modo è venuto alla luce il libro sulla guerra. Spedì il manoscritto a Salvemini che era a Londra alla fine del maggio del 37 ed egli mi rispose con un telegramma di qualche centinaio di parole. Il mio amico era placato. La prima edizione italiana uscì a Parigi, edizione italiana di cultura, ai primi del 1938, la seconda in Italia e in Audi nel 1945 dopo la liberazione. Rileggendo questa testimonianza della guerra che ho lasciato immutata nella sua prima stesura, il mio pensiero va a Salvemini ed è a lui che dedico questa edizione. Emilio Lusso, Roma, settembre 1960. Il lettore non troverà in questo libro né il romanzo né la storia. Sono ricordi personali, riordinati alla meglio e limitati ad un anno fra i quattro di guerra ai quali ho preso parte. Io non ho raccontato che quello che ho visto e mi ha maggiormente colpito. Non alla fantasia ho fatto appello, ma alla mia memoria e i miei compagni d'arme anche attraverso qualche nome trasformato. riconosceranno facilmente uomini e fatti. Io mi sono spogliato anche della mia esperienza successiva e ho rievocato la guerra così come noi l'abbiamo realmente vissuta con le idee e i sentimenti d'allora. Non si tratta quindi di un lavoro a tesi. Esso vuole essere solo una testimonianza italiana della grande guerra. Non esistono, in Italia, come in Francia, in Germania o in Inghilterra libri sulla guerra e anche questo non sarebbe stato mai scritto senza un periodo di riposo forzato. Clavadel Davos aprile 1937 07 07 08